C'è chi ha studiato da geometra e poi si è cimentato nell'automotive, chi ha trovato un lavoro prima ancora di terminare il ciclo di studi e chi ha scoperto la propria propensione per la programmazione informatica e rivendica. Chi lo ha detto che sono lavori da uomini? La visita di Mario Draghi all'ITS Cuccovillo di Mari è tutta per loro. Il premier ci arriva dopo la tappa nell'area industriale dopo aver visitato i laboratori all'interno. Le risorse per il sud ci sono, i ritardi nella spesa sono una tassa sul vostro futuro, dirà loro dal palco. Molti sono assenti perché impegnati nelle aziende che li stanno formando, precisa la presidente Scattarelli. La regione ha investito 40 milioni di euro nel sistema degli ITS pugliesi. Nessuno spazio per la polemica politica. Antonio De Caro ribadisce l'exit strategi dallo stereotipo di un sud arretrato, sempre intento, racconta, a rincorrere un treno che non riesce mai a prendere. Michele Vigliano rilancia. Siamo pronti a candidare Taranto a Polo dell'Idrogeno. I pugliesi sono nati pronti. A voi giovani spetta il compito di trasformare l'Italia. Il nostro compito è mettervi nelle condizioni di poterlo fare al meglio. Il vostro è quello di cominciare a immaginare il paese in cui vorrete vivere. Preparatevi a costruirlo con passione, con determinazione e perché no anche con un pizzico di incoscienza. La regione Puglia ha investito più di 40 milioni di euro dando vita a ben sette fondazioni che si collegano direttamente alle problematiche produttive delle aziende pugliesi nei vari settori, in particolare uno, il settore biomedico. Grazie. 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 Grazie.